Grazie per essere venuti a questa quarta edizione dei racconti di Monumenti Aperti, che inizia ora ha un'oretta più o meno dall'avvio dell'apertura dei monumenti di questa sedicesima edizione di Cagliari Monumenti Aperti. Entriamo subito nel vivo, io volevo prima di tutto, prima di lasciare la parola a Francesco Abate, che assieme a me cura questa iniziativa di racconti da quattro anni, volevo fare una serie di ringraziamenti veramente sentiti e non pro forma, sono dei ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno dato una mano e che hanno fatto sì che questa quarta edizione dei racconti potesse andare in porto. La prima persona è Fabrizio Froggia, che è il presidente di Mago Mundi Associazione Ollus, che è l'associazione che da una vita storicamente, subito dopo Ipogeo, che fondò questa manifestazione 16 anni fa, ha preso in mano l'organizzazione e tuttora andare avanti. Grazie perché in tempi di crisi economica, di tagli alla cultura disastrosi come quelli che stiamo vivendo, poter avere anche quest'anno questa manifestazione che per quanto con l'aiuto di tanti ha dei costi, è stato veramente un miracolo, per cui veramente grazie. E poi grazie a 10.000 persone. Agostino Mela, che dovrebbe essere qua, l'ho intravisto, fotografo che ci ha regalato una serie di scatti che sono stati fatti proprio qua nell'86 in occasione di quel concerto che oggi verrà in qualche modo preso a Cagliari e fu fatto qui con l'amico Billy Secchi. Grazie a Fabrizio Casti e Marcellino Garau perché hanno preso un vecchio Revox, la vecchia bobina dell'86 che era a casa di San Paolo e l'hanno accudita come un figlio e gli hanno dato nuova vita digitalizzandola e avrete modo di sentire qualcosa stasera di questo lavoro. Quindi grazie veramente a loro e grazie a tutti quanti. Passerei la parola a Francesco così vi racconto un po' qual è il senso di questa quarta edizione e poi ritorniamo un secondo sul racconto di stasera. Come vi ha detto Giuseppe siamo arrivati alla quarta edizione e nelle precedenti edizioni la musica aveva avuto sempre un ruolo importante però non principale, faceva d'accompagnamento agli scrittori. Invece per quest'anno grazie all'idea che Giuseppe ha avuto abbiamo deciso che invece fossero i musicisti, i protagonisti di questi tre incontri che avremo anche domani sia di mattina che di sera. Credo che il filo conduttore sia la musica ma anche la memoria perché sia oggi che domani racconteremo delle storie, faremo raccontare delle storie che meritavano di non essere dimenticate. Domani alle 11, al Minimax, Davide Catinari racconterà di un concerto nel 1974 di cui io guardandomi in faccia sono sicuro molti di voi ricorderanno ma le generazioni che ci hanno seguito no. Un concerto della PFN che finì a botte e lacrimogeni proprio lì al Teatro Massimo. Davide ha scritto un bellissimo racconto e ci ricorderà quando pretendevamo o altri pretendevano al nostro posto di avere la musica gratis, anticipando quello che in realtà succede adesso, entrare in un sito internet e scaricarsela senza pagare una lira. Un altro appuntamento molto interessante e sicuramente divertente, simpatica questa piogerellina che inizia, nel caso ci sposteremo, è invece il racconto che Rossella Faci porgerà alle 17 alla Grotta Marcello. Raccontasi di un una blatta, ma in realtà la sua è proprio una fattoria degli animali in chiave casteddaia e per chi conosce Rossella sa che ci divertiremo sicuramente. Ma il cardine di questi tre racconti, di questa iniziativa, è qui, è stasera, è in questo momento, perché è da questa idea che poi si decide di coinvolgere gli altri musicisti e siccome l'idea è di Giuseppe, io credo che sia, è anche di Francesca. E allora tu e Francesca spiegateci che cosa sta per accadere. Allora, prima di spiegarlo, ultimo ringraziamento a una persona che è lì in alto, che è padre Giancarlo, che veramente voglio ringraziare, perché ci ha ospitato in modo così affettuoso assieme a tutti i padri domenicani e quindi grazie veramente. E non sarò soltanto io a ringraziarlo che mi sentirete. Allora, il racconto di stasera effettivamente poi ha dato vita alla scelta anche degli altri due, perché in realtà l'avventura sarda, diciamo, di Paolo ha avuto inizio proprio qua, anzi non esattamente qui, ma dentro la chiesa, nell'86, quando venne per la prima volta a suonare a Cagliari, su invito proprio di Robert, di Billy Secchi, col quale poi nacque una grande amicizia, insomma. E quindi Paolo, quando gli abbiamo proposto di scrivere questo racconto, ha voluto proprio, senza pensarci neanche mezzo secondo di più, dedicarlo, proprio omaggiarlo, insomma, all'amico scomparso e a tutti quelli che in quei giorni furono le anime di questo concerto. Allora, chiamerei Ignazio Secchi, per chi non lo conoscesse, il fratello di Roberto Secchi, che ha accettato, ho fatto un po' di paura all'inizio, di preoccupazione, di venire a leggere, insomma, un racconto che emotivamente, ovviamente, lo colpisce. E quindi ha accettato di venire qui. Ci sono una serie di cose che, a leggerlo, ci sono una serie di curiosità che poi, però non vi svelo, perché sono, fanno parte di quello che andrete a sentire. Per cui, se vuoi dire qualcosa, se vuoi? No, no, ho più disposto. Allora, buon ascolto, ci vediamo in giro per i monumenti e poi domani ancora per gli altri racconti. Grazie. No, anzi, un'ultima cosa. Chi fosse, naturalmente rimanete tutti quanti qua, perché poi ci sono i ragazzi bravissimi che vi faranno fare tutta la visita guidata a questo posto veramente magnifico. Buon ascolto a tutti. Grazie. 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 i filobus se la gente poteva spostarsi a piedi come nel mio paese, dove da Riuzzocolo a Sarughe ci mettevi 5 minuti se non ti fermavi al bar in piazza. E con questo chiodo fisso che vi approdai in una fredda mattina di febbraio, partimmo dalla stazione di Berchida che era notte e saremo stati una ventina, tutti classe 61. Ricordo solo che mio padre mi accompagnò con la 500 familiare bianca piena di sacchi di mangime e di bidoni per il latte, che era a buio pesto e che a un certo punto mi svegliai che il treno stava transitando a campena. Fuori c'era la neve, io non ne avevo mai vista così tanto. Evidentemente mi riappisolai perché la fotografia successiva è l'arrivo alla stazione di Cagliari con il grande piazzale, sui filobus e con i tassinari con lunghe Peugeot scassate e colore a infuende indefinite come un asino che fugge, che ci chiedevano se dovevano andare alla caserma di Calamosca per la vista non d'Italia o se serviva un passaggio. Evidentemente ce l'avevamo stampato in pace. Sapevo tre cose di Cagliari che era grande, che c'erano i filobus e che per la visita di leva si andava a donne e si diventava grande. Io a donne non ci andai, anzi riparti dalla città prima degli altri perché fui fatto rivedibile per insufficienza toracica e perché l'unica notte che passai in una pensione mezza stella di via Porcille mi bastò e mi avanzò. Tornai in paese che ero grande lo stesso e la leggera idiosincrasia nei confronti dei cagliaritani rimase intatta, non ricordo di esservi ridisceso prima di aver conosciuto Billy. È lui che mi fece amare Cagliari. Si presentò a casa mia che erano le undici di sera. Una sera di agosto bollente di quelle che senti solo il giusio delle cicale e le voci dei vicini che cenano con le finestre e le porte aperte, con le grida dei bambini che giocano a ballone. Squillò il campanello e aperto il portone mi trovai davanti un giovanotto alto e vispo con tanto di baffi e con in mano sotto una valigetta 24 ore. Mi sorrise e gli sorrisi. Mi disse che era un batterista che amava Elvin Jones e Billy Cobal, da questo il suo soprannone, e che stava ritornando da Siena dove aveva frequentato un seminario di jazz e dove gli avevano parlato di un trombettista di un paesino sardo, forse Berchida, che suonava bene la tromba. Di Berchida, l'ha chiesto lui incredulo, di Berchida o qualcosa del genere. Gli avevano risposto a Siena, dove ero stato l'anno precedente, come allievo. Ma Berchida non è quel posto in cui si dice che sono un po' strani, pensò tra sé e sé. Ciò nonostante il pensiero non gli tolse è la curiosità di conoscermi e di venire a trovare. Aveva viaggiato da Livorno con la nave di Urna e arrivata a Urba aveva preso il primo treno per Chilivani. Era sceso alla stazione in una sera buia e si era incamminato a piedi verso il paese. Un indigeno lo aveva caricato in macchina e lo aveva portato senza batter ciglio davanti al portone della nostra casa, come se fosse la cosa più normale alle 11 di sera. Da allora, grazie a Billy, la città con i filobus divenne la mia prima vera città. Scoprì che Sassari era molto più piccola e quei mezzi di locomozione cittadini non li aveva. iniziai ad amarla fino a quando non mi portò per mano dentro il fantastico mondo del jazz che io pensavo esistesse solo in continente. Su Mediago, il Roncao, l'Ottocento e la una interminabile jam station nei locali, ogni tanto ci scappava un concerto pagato recentemente, in città o nell'Interland, che mi permetteva di mettere un po' di benzina nella mia 128 Sport rossa, per percorrere i 240 km che separavano il capo di sopra da quello di sotto e che separavano me dal sogno del jazz. Certo, con Billy non frequentavamo né chiese né musei, ma quando entrai la prima volta nella cripta di San Domenico rimasi allibito. Il quartiere di Villanova lo conoscevo abbastanza perché c'era qualche ristorantino che di tanto in tanto assumeva la fisionomia del jazz club, quasi come fossimo a New York o Parigi. Ma nonostante avessi sempre visto la chiesa di Dominicani dall'esterno, non mi era mai balenata l'idea di sbricciarvi dentro. L'associazione Teatro Corpo Scena vi aveva organizzato una mostra dal titolo Acqua Traversate, con le opere di teatristi spagnoli e il nostro Oltre, con il sottotitolo Monologhi e Dialoghi e Musica. Era il 19 dicembre del 1986 e Cagliari si preparava per il Natale, mentre io creavo, senza saperlo, la mia prima opera multimediale. Anzi, la nostra mi è Edibiti. La batteria la trasportavamo con un taxi perché lui non guidava e la mia 128 Sport giaceva da qualche anno, in chissà quale campagna lugodorese, a fare da deposito per Mangimi. In quel luogo, smontata a pezzi, tra tom, gran cassa, pedali e piatti posti davanti al crucifisso ligno, la batteria dava l'idea di un oggetto estraneo, dimenticato da qualche distratto. Sulla sinistra, rispetto all'ingresso, vienono delle opere d'arte perfettamente illuminate. Questi erano dei pittori madriolini e catalani contemporanei che, nella geografia storico-artistica del luogo, richiamavano l'originaria architettura gotico-iberica dell'antico convento, distrutto durante un pomeriggio di guerra nel 1943. Billy montava certosinamente la sua greche, osso scuro, con genti lenti e misurati, mentre io prendevo tempo e cercavo di capire cosa avrei potuto fare in quel posto carico di religiosità. e di storia. Mi ero portato, oltre alla tromba e al fulcorno, una cornetta, una tromba attascabile insieme a quella di Don Cherry e un registratore Revox, che avrebbe dovuto passare le basi musicali sulle quali noi avremmo suonato. Inoltre, il programma di sala che portava una poesia a Naif di mio padre, naturalmente in sardo. In confronto alla maestosità del luogo, le opere d'arte moderne sembravano poca cosa. Nonostante queste fossero materiche all'interno della cripta, sembravano perdere spessore e solo rilette, forse nell'antico occhiostro del XV-XVI secolo, avrebbero potuto riguadagnare luminosità e vita tra le immense agave e il brado verde con il pozzo centrale. Pilar, Salvatore, Juan, tre artisti spagnoli appena conosciuti, sembravano contenti di essere lì a misurarsi con le poche opere sacre sopravvissute ai bombardamenti e con il sincretismo architettonico, gotico, rinascimentale della Cappella del Rosario. Da parte mia sentivo la necessità di dare a quello strano concerto una definizione nuova. Il titolo Oltre, con tre puntini finali, testimoniava una confusione di fondo. Perché, se da un lato racchiudeva la mia necessità di andare oltre il tradizionale concetto fruttivo del concerto, dall'altra poteva aprire nuove porte verso lo sconosciuto e che io intravedevo appena. Fu biglia a svelarne il senso. Perché non ti porti qualche base pre-registrata sulla quale suonare? Mi suggerì al telefono e io, ottima idea, penserai. Pronto in Catalogna avevo appena fatto uno spettacolo con un mimo e composto una partitura dal titolo Mamut, che aveva registrato qualche mese prima con il quintetto in seno al quale in tempi non sospetti aveva meritato lo stesso Billy. Le studie si intrecciavano, le geografie con i luoghi, gli anni, i suoni. Siena con un Cagliari, grazie alla valigetta 24 ore di Billy e la Catalogna con le cappelle quattrocentesche voltate a crociera costolonata e capitei di fitosomofi del chiostro di San Domenico. Toscana, Sardegna e Spagna si incontravano in quel luogo come mille volte era stato nel passato nel nostro romanico Pisano e poi nel gotico Aragonese, che si possono amminare nelle nostre basiliche perse nelle campagne tra le greci. Niente di nuovo rispetto alla storia passata, eccetto per la presenza di una batteria rosso-oscuro ed un giovane ragazzo con la pocket trumpet che veniva da un paese del nord e che forse non amava più tanto Cagliari o che ne aveva avuto paura provandovi in una fretta mattina di febbraio molti anni prima. Non ricordo come andò, ma posso credere che sia stato il luogo a suggerire il percorso creativo di quello spettacolo indefinibile. So anche che è molto nato da quella sera e che l'intreccio delle relazioni e dei rapporti tessuti nella cripta di San Domenico ha contribuito allo sviluppo di molte delle cose maturate successivamente. Il progetto dell'arte contemporanea di Berchitta, con i primi murales e i primi manifesti del Festival Time in Jazz, ad opera di Pilar Salvatore, e la costruzione del pensiero sul jazz sardo che Billy ha contribuito a far crescere, lasciandolo nelle mani delle nuove generazioni, il pomeriggio e la giornata dopo aveva la luce di un dicembre, mite e dal bastione le barche in porto sembrava si potessero toccare con un dito, tanto l'aria e la terza. Salutando Pilar, Salvatore e Juan, che a loro volta agitavano le mani dal ponte della Tirrenia, non sapeva ancora che quel titolo dato al nostro progetto estemporaneo sarebbe stato quello giusto e che quei tre puntini discreti, forse alla fine, avrebbero lasciato intendere un'infinita serie di relazioni, tra Sardegna e continente e tra lo stesso e il mondo, passando proprio per la Spagna e poi salvando gli oceani. Se dalle macerie del 13 maggio del 43 era rinato San Domenico, io iniziavo a vivere in quel Natale del 1986 che era oltre me stesso e non me ne rendevo conto, un po' come il jazz che cancella le distanze tra i continenti e anche tra il capo di sopra e quello di sotto, eliminando finalmente la tavica paura dei filobus che incarnavano la metafora del micro e del macro, del mondo conosciuto e di quello sconosciuto. La bobina della scotch è rimasta nella libreria dello studio di Birchida per tutto questo tempo, studio che fino a pochi anni fa era proprio come allora, con decine di cassette per la frutta impilate l'una sull'altra, diventare così librerie e contenitori per libri e dischi. Sulla sinistra un pianoforte verticale di marca sconosciuta, comprata guardate dai miei e sulla destra un'altra libreria ordinata dal catalogo di Postal Market, con sopra quel telefono grigio che era il mio cordone obericale con il mondo. E con quel telefono che negli anni 70 chiudeva i contratti con i comitati delle feste patronali della Gallura, che appresi dal primo premio come miglior talento del jazz italiano nel 1984 e che nel 1985 pronunciai il sì con le gambe tremanti al presidente di Siena Jazz, che mi invitava a fare parte del corpo docente, degli stessi seminari dove solo gli anni prima ero stato allievo. Assieme a Billy, con i quali vi ritornai l'anno successivo al nostro incontro perché tese di una notte d'estate. Era il 1982. Sul dorso della scatola quadrata bianca e rossa riportata la dicitura Oltre, Cripta di San Domenico, scritta a mano con una calligrafia molto più chiara di quella di ora e all'interno ho ritrovato due fogli con il probabile programma di quella serata. Il primo riporta in calcio l'intestazione dell'hotel Ambasciatori di Firenze, mentre il successivo quello di un albergo della North Carolina, per precisione l'hotel Europa a Chappell Hill, ancora una volta nuove geografie da tessere con la memoria degli anni. Osservando attentamente quel tratto sottile mi rendo conto che questo racconta, più di qualsiasi altra cosa, i cambiamenti percettibili di quegli anni. Le O e le E, che nella scrittura di oggi sono allungate e lineari, allora erano grasse e rotonde. Le L e le T erano linee che si stagliavano prepotentemente verso l'alto e oggi sono invece diventate un'unica linea dritta come a dimostrare la necessità di un continuum senza fratture. Dovessi sforzarmi per trovare un nesso musicale, quei tratti calligrafici testimonierebbero lo sviluppo di una storia e la mano di Billy tesa verso il mondo, a indicare una via normale che nel tempo diviene tortuosa e che con gli anni si allunga e si stende per divenire impercettibilmente uguale come fosse un piatto encefalogramma. Da quel 19 dicembre del 1986 quella bobina non è stata più aperta né ascoltata. Del resto non possiedo più neanche il Raybox per poterla sentire, mentre ne ricordo benissimo i gesti e i suoni. Quel clac, quegli interruttori per farla partire e per mandare avanti e indietro il nastro, oltre all'odore nitido dei macchinari e all'uccichio del frontale metallo sorretto da una cassa in legno chiaro. L'altra immagine impressa nella mia mente è quella di un piccolo cilindro che ponevo nella puleggia che comandava le due bobine, dimezzando così la velocità del brano in ascolto e permettendomi di trascrivere, senza troppe difficoltà, gli assolo di Miles Davis o di Chad Becker. Sono le prime note del tema di Round Midnight e di Thelonious Monk a catapultarmi immediatamente in quegli anni. L'incertezza di quel fan naturale suonato da Miles, che dopo il primo si bemolle, che invece era sicuro e che portava la conferma del sol bemolle, sull'accordo minore, era lì a svelare il mistero del jazz attraverso la voce interiore di quella sordina che parlava come fosse la sua voce rauca. Oppure, repentine variazioni della versione dal vivo di One of the Spin in Mountain Leaves, che ascoltai per giorni e giorni prima di riuscire a mettere in successione sul pentagramma la rafica di note che scorgavano dalla tomba di Miles, come un fiume in piena. Oppure ancora, la voce è screzzata di certi in una delle sue mille versioni di My Funny Valentine e successiva solo alla tromba che sapeva di canto, quanto il canto sapeva di un emozionante strumento. I pistoni diventavano le corde vocali e un'impressione minima, col vibrato o con il soffio dell'aria che si miscelava col suono, diventava un mondo gigantesco che solo nota dopo nota e trascrizione e dopo trascrizione avrei capito, grazie al mio revox, la velocità dimezzata. Ho riscoltato quella bobbina ora, dopo 26 anni e dopo averla messa nelle mani esperte di un tecnico esperto, che possiede ancora un vecchio registratore al nastro, la riversata su un banale CD che forse ne ha cancellato involontariamente il mistero e parte della storia che vi era contenuta. Mentre avrò da Bologna a Elmas, ascolto quel materiale con il mio iPhone, il timbro dei brani è freddo come quella mattina di febbraio in cui arrivai a Cagliari per la prima volta, quando invece il ricordo di quella sera della cripta di San Domenico è nitido, caldo e vivo, sa di jazz e di Spagna. Più che una memoria sonora e grazie a quella calligrafia, se tutto ha ritrovato una sua collocazione, se Billi con la sua gresce rossa ha ricomposto nella mia mente la storia di quegli anni. Padre Giacardo mi accompagnava a visitare la cripta e il chiostro. È una bella mattina di febbraio, che potrebbe ricordare quel lontano Natale del 1986, un giardiniere taglia l'erba mentre un signore distinto entra e chiede se può confessarsi. Mi chiede gentilmente di aspettare e si scusa con me. Conclusa la confessione mi fa la cicerone e con l'odore dell'erba appena affalciata e dopo aver visto la cappella del rosario mi porto sul terrazzo da dove si vede tutta Cagliari. A che ora sarà la lettura? chiede. Nel pomeriggio, rispondo io. Purtroppo non ci sarò, aggiungo, ma ci saranno tutti quelli che hanno vissuto questa storia. Billi, Pilar, Salvatore, Juan, il mio vecchio Raybox, senza il quale non avrei mai capito la bellezza del silenzio. Tra queste mura le note di Miles Davis e di Chet e una gresce rosso oscuro. Paolo Friso. Bene, questa prima lettura è terminata. Ricordo a chi fosse interessato che all'ingresso ci sono le guide di Cagliari Monumenti Aperti, c'è il libretto che contiene tutti e tre i racconti, quello di oggi e quello che verranno letti domani. Buona Monumenti Aperti a tutti, buona serata. Grazie. Grazie.